L'amicizia è così profonda tra voi due che dormite anche insieme la notte Nooo Ma che è? Eh? Come magari? Kung Slao 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 Sla 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 Come la Sla Come la Sla Ma vaffa Un urlo di gioia Viva Montecopino Rovella Un urlo Forza Montecopino Rovella Un urlo Viva Montecopino Rovella Forrevo nel mio cuore per sempre Come bisogna trovare su YouTube? Kasi Slao Kung Slao Kung...eh no, parola scriverlo Fai lo spelling, dai In pratica devi dire una cosa al contrario Invece per esempio Kung Kung Che cazzo stai a dì? Dicci cos'è lo spelling Guzz Che è? Guzzau Allora lo spelling è semplice Allora Kung Slao O Ma non è quello G di Genova G Genova Geno Genova Geno Va E che cos'è Genoa? Genova E Genoa Genova E' in Genova è un'altra squadra No...gn抵ce di Genova universo Cerca che un'altra squadra Genova Sergio Enstat Genova l'arte. Pazzo al culo, vai, vai. Cose da farsi, storie di ordinaria, certo che è un legare di merda. Vai, dai, e vai, canta. Momento solo? Ma come momento solo, vai. Dai, questa è la parte iniziale. Dai, dai, cazzo! Su! E avevamo nel meglio evo nel 472, ci scaldavamo con il bue, avevamo un grande impero. Attenzione. Ma i barbari si distrussero il muro e ci andavamo a fare il culo bene!